Ucciso con una coltellata mortale atropea forse per un regolamento di conti. Così è morto il 36enne Werner De Bianchi, artista del circo Donato Orfei, residente a Manciano di Castiglion Fiorentino. Il suo presunto assassino, che la vittima stessa ha indicato poco prima di morire, Alex Orfei, è stato arrestato dalla polizia di Vibo Valencia. Il 31enne non fa parte della storica famiglia Circenze di Moira e Nando Orfei. De Bianchi è stato ucciso venerdì scorso 12 agosto. Alex Orfei ce l'aveva già con lui da giorni. Era stato preso di mira con post denigratori e offensivi su Facebook. Derideva il circo Donato Orfei proprio per l'utilizzo del nome Orfei. Poi l'incontro di fronte ad un supermercato di tropea. Alex Orfei però non sarebbe stato da solo con lui. C'erano anche tre persone. Alex Orfei avrebbe chiesto del denaro prestato proprio a De Bianchi per averlo indietro, ma quest'ultimo non ce l'aveva. È quindi scattata una violenta aggressione culminata con una coltellata mortale. De Bianchi è stato soccorso dai mezzi del 118 e trasportato in ospedale. È morto poco dopo, ma ha fatto in tempo a nominare proprio il suo presunto assassino, che è stato poi arrestato dalla polizia di Vibo Valencia. Orfei è adesso accusato di aver sferrato la coltellata mortale. Sono stati individuati anche gli altri tre presunti complici, tutti stranieri, in stato di fermo per il pericolo di fuga.